Le Diciotti, lei ritiene che la strategia del ministro degli interni Salvini sia giusta per sensibilizzare l'Europa sulla questione dei migranti o si sta giocando sulla vita delle persone? Guardi, io condivido pienamente quello che ha detto ieri il Presidente Conte. L'Unione Europea deve battere un colpo. Allo stesso tempo siamo attentissimi agli condizioni di salute e di rispetto dei diritti umanitari a bordo della Diciotti. Sono stati fatti sbarcare i minori e dico a tutti che il governo è compatto e rilancio un'altra cosa su un fatto. In questi mesi noi abbiamo avuto modo di vedere come funzionava la linea morbida nei confronti dell'Unione Europea e come funziona invece la linea dura nei confronti dell'Unione Europea. Io sulla linea dura voglio fare un'altra proposta e lo dico come capo politico del Movimento. Se l'Unione Europea si ostina con questo atteggiamento, cioè se domani dalla riunione della Commissione Europea non esce nulla, non decidono nulla sulla nave Diciotti e sulla redistribuzione dei migranti, allora io e tutto il Movimento 5 Stelle non saremo disposti a dare più 20 miliardi di Euro all'Unione Europea ogni anno. Ce ne prendiamo una parte e non siamo disposti, se non ci aiutano, a votare una legge di bilancio che preveda ancora il finanziamento di 20 miliardi all'Unione Europea.